Musica Dobbiamo fare qualcosa, eliminiamo i capitani così i gondoriani guadagneranno tempo e potrebbero condurci al palantir cerchiamo un verme e facciamolo parlare Ma che cosa cavolo stiamo aspettando? Ecco, ha perso il senno Alanker? Alantir, che ne so io di quelle pietre veggenti? Chi è che guida la ricerca del palantir? Chi è che? Chi è che? Chi è che? Il capitano che guida la ricerca è nella città bassa. La città bassa è una nullità, se prendi quella alta, sei un re. Ma che razza di dove è, Pina Siti? Ma che razza di dove è, Pina Siti? Pina Siti? Pina Siti? Pina Siti? Ma perché questi pelle rosa schifosi non capiscono che hanno... Ma perché? Pina Siti? 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 Grazie a tutti. 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 Come ti chiami? Idril. Talion. Non restare indietro, Talion. Abbiamo già perso troppi uomini. Allora facciamoci strada fin lì. Il Sergente Tarandur avrà bisogno di noi. Andiamo. No. 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 il cancello è aperto presto salite la città di mezzo è caduta la città di mezzo è persa la città di mezzo è persa non prima di aver finito questi sporchi ci dono i cancelli forza ravingo acciuppate il bellorosa la città di mezzo 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 che cosa stai facendo? ci metterò poco tu va via gli arciari di coprirlo la città di mezzo la città di mezzo